Marco Marcolini, come commenta l'audizione dell'ex sottosegretario Mistura sulla vicenda dei Marò? Ma è totalmente inutile perché c'è stata una serie di non posso dire, non posso relazionare, perché è seduta pubblica in quanto minerebbe la buona riuscita dell'operazione che stanno portando avanti. È chiaro che noi della Lega Nord abbiamo dato il consenso per dare anche il nostro appoggio a questo governo affinché la cosa si risolvesse nei tempi più rapidi possibile, quindi ci hanno chiesto di voto all'unanimità, noi li abbiamo mandato, ma questa cosa non deve essere per forza presa come un atto di sottomissione a questo governo. È semplicemente perché due persone sono imprigionate, due persone attendono un giudizio dal 2012, due persone che ce le avevano restituite e noi abbiamo avuto l'asceleratezza di farle tornare indietro. Facendo così abbiamo anche screditato ciò che è la nazione, abbiamo screditato ciò che è la nostra forza che potevamo avere nei confronti dell'India, uno Stato che chiede insistentemente di entrare nelle Nazioni Unite e che si comporta come se questa vicenda non la toccasse. È chiaro che questa vicenda verrà sfruttata sotto la campagna elettorale e credo che sia stata sottovalutata a suo tempo per poter far sì che le persone che oggi si stanno adoperando per la buona riuscita potessero mettersi magari una medaglietta sul petto, in quanto non credevano minimamente che la cosa sicuramente gli ha sfuggita di mano, noi chiederemo sicuramente una commissione d'inchiesta è chiaro che non vorremmo che questa commissione facesse la fine della commissione d'inchiesta per l'uccisione di Aldo Moro, cioè che venga fatta dopo 36 anni ma che venga fatta in tempi rapidi perché credo che anche il governo e noi stessi abbiamo diritto ad una risposta.